Buongiorno a tutti, buongiorno Stefano. Sascha buongiorno, buongiorno a tutti. Per noi questa è la puntata numero 152 bis, visto che riprendiamo, dobbiamo fare questa registrazione due volte. Ma nessun problema, visto che ai nostri lettori si sono persi i nostri errori, vediamo di affrontare gli argomenti del giorno. Gli argomenti del giorno sono l'attacco al Cremlino, Zelensky chiaramente parte prima dell'attacco e si ritrova in Finlandia per poi atterrare in Olanda. Due petroliere sono state confiscate dall'Iran per la confisca di una petroliere iraniana da parte americana. E daremo un'occhiata alle trincee russe in vista di una possibile controffensiva ucraina in queste prossime ore, giorni. Allora, visto che è la puntata bis, non faccio la battuta sugli stronzi finnici. Ah, occidenti! Perché sennò poi non va bene, insomma diventa... Sì, sì, ci censurano. Ci censurano, esattamente. Va bene, dai, iniziamo parlando dell'attacco al Cremlino, perché ieri è stato l'argomento che ha tenuto più banco, diciamo. Allora, noi intanto abbiamo avuto questi due droni che sono arrivati in prossimità del cupolone del Cremlino dove poi sono stati distrutti dalle difese aeree di punto che hanno distrutto questi mezzi senza permettere loro di arrivare ad attaccare, a colpire poi l'edificio stesso. Qualcuno ha titolato, ha tentato alla vita di Putin, c'è stata molta enfasi anche all'interno della Duma, poi per il giorno hanno votato risoluzioni al fulmicotone, dichiarazioni guerrafondaie di vario tipo, ma il Cremlino fondamentalmente non ha rilasciato particolari dichiarazioni. Possiamo dire una cosa, a nostro giudizio la guida del Cremlino è una guida saggia, è una guida molto attenta, ragionata, non risponderà mai, si è parlato addirittura di bombe atomiche. Gli ucraini hanno diffuso informazioni ad arte della presenza di ordini atomici in alcuni aeroporti pronti a essere caricati sugli SU-22, cioè delle cazzate simili. No, che gli ordini ci siano, questo è ovvio, ma che vengano caricati sugli aerei è già pronti. Vi abbiamo dato l'importanza che avevano, cioè pari a zero. non ci sarà mai una risposta nucleare da parte russa per due droni con il motorino a scoreggetta lì che avevano... A scoppio, cioè due ciclomotori. Dai, stiamo scherzando, sono mica gli Stati Uniti, voglio dire. Eppure sì, la nostra stampa, la stampa occidentale, ci ha ricamato sopra di tutto come nel suo solito. No, guarda, si è sentito un po' di tutto. Dalla false flag alla cosa strana, al disconoscimento ucraino. Tutto nasce fondamentalmente da un discorso, che questo attentato è fallito. E quindi, essendo fallito, ah, non siamo mica stati noi. No, se fosse riuscito, facevano i franco bolli col cremlino in fiamme, per farci le foto. Siccome è fallito, dicono, no, ma è strano, però che... In realtà ce ne sono già stati molti di tentativi di arrivare... Precedenti, sì. ...a Mosca e sono falliti. Tu mi dicevi, Stefano, una cosa molto interessante. Facevamo delle stime nella registrazione precedente, quella che voi non avete visto. La prova, la prova generata. Sì, che questi droni molto probabilmente non giungono da fuori i confini russi, ma provengono dai confini russi. No. Secondo me, stima mia, per carità, non ho letto nulla di simile in giro. avendo un'apertura all'area limitata, credo sui due metri, sono facilmente assemblabili sul posto, smontati li carichi in macchina e facendoli partire con una squadra infiltrata e ce ne sono di squadre dormienti attive, lo dimostrano gli attentati terroristici contro figure... A San Pietroburgo l'ultima, sì. San Pietroburgo, Mosca e altre che abbiamo già visto, non sono poche le squadre attive infiltrate all'interno del territorio russo, perché ricordiamo che la Russia in questi otto anni ha ospitato qualcosa come otto milioni di profughi dall'Ucraina. Circa tre milioni dall'inizio dell'operazione militare speciale, è il paese che ospita più profughi ucraini al mondo, la Russia, e altri 5 milioni, mi sembra, si erano spostati dal 2014 in avanti. Non sarebbe quindi una sorpresa se qualcuno tra loro fosse incaricato di eseguire queste missioni. Esattamente. approfittando del passaggio tranquillo, senza visto che c'era tra la Russia e l'Ucraina, possono aver infiltrato tutte le squadre di guastatori che volevano. Tanto l'Ucraina aveva già in programma di fare la guerra contro la Russia, perché non ha mai l'Occidente, non ha mai avuto intenzione di far rispettare i trattati di Minsk 1 e 2, ma solamente di programmare il conflitto. e cioè armare e addestrare l'Ucraina per arrivare a usarla come strumento di guerra contro la Russia. Perché nei calcoli della Nato c'era fondamentalmente quello di portare la Russia a una resa rapida, perché avevano valutato che non avrebbe avuto le risorse a causa delle sanzioni da una parte, a causa delle condizioni, della mancanza di materia per costruire nuove apparecchiature, ma non tenere quelle che avevano in essere, e avrebbero avuto entro 100-150 giorni, sarebbero stati costretti a cedere e scendere a patti, quindi firmare di fatto una resa. Tutto ciò non è per esaurimento delle scorte, fondamentalmente. Tutto ciò non è assolutamente avvenuto. Perché io dico questo? Perché? Perché dagli ambienti militari occidentali traperavano queste notizie per la stampa, per la stampa nostra, che quindi davano le imbeccate, dicendo guardate che tra poco, ehi, 100 giorni, 150 giorni, dovranno per forza cedere. Alcuni analisti, come anche, permettimi di citarlo, Rietta Moscatelli, invece erano molto dubbiose di questo tipo, dicevano, ma io non credo, sinceramente, usando un eufemismo, perché da buona conoscitrice, del mondo russo, sapeva quello di cui parlava. D'altronde anche noi, l'abbiamo sempre detto. Stefano, tornando all'attacco al Kremlin, ecco, c'era una cosa molto importante che mi avevi spiegato, che riguardava le cinte della città. Parlami di questo. Il punto fondamentale è perché io penso che questo attacco sia partito dall'interno della cerchia urbana di Mosca, cioè della regione di Mosca, perché i tentativi che sono falliti di arrivare alla città sono falliti in prossimità, entro le decine di chilometri dalla capitale. Perché? Perché evidentemente c'è una barriera anche di disturbo elettronico che impedisce di fatto tronca i collegamenti per la guida e il controllo di queste apparecchiature. E quindi li trovavano a terra, cioè crollavano a terra e poi andavano a vedere che cosa era successo quando segnalati. In mancanza di segnale fondamentalmente il radiocomando non funziona più, certo. E non sono pochi, sono diverse le segnalazioni, credo una ventina i droni che hanno già cercato di arrivare nella zona. Quindi facendo invece inserendo una squadra con i mezzi smontati da assemblare sul posto, quindi montando le ali e avviandoli dall'interno della cerchia urbana cosa fai? Eviti le difese aeree che sono poste intorno alla capitale in maniera concentrica bypassi quelle strutture che sono magari sulla cima di alcuni edifici ma che sono magari a riposo perché non allertati non possono tenere il radar attivo in mezzo ai palazzi alla popolazione esatto senza che ci sia una ragione cioè un'allerta esterno questa allerta non viene se tu li lanci direttamente dalla zona prossima alla Mosca tra l'altro è una megalopoli con ampi spazi verdi che ben si prestano a questo tipo di lancio o da una stradina di qualche poco frequentata di notte oltretutto è successo verso le 4 del mattino mi sembra di ricordare quindi strade non frequentate ce ne sono a Iosa una pista non preparata anche e da lì poi tu se ti trovi all'interno della città hai pochissimi minuti dai pochissimi minuti di tempo a chiunque per avvedersi di quello che sta succedendo e raggiungi facilmente il tuo obiettivo tra l'altro a seconda dell'inclinazione dell'inquadratura io non mi ricordo se inquadrassero le telecamere la basilica o il mausoleo di Lenin e pertanto poteva arrivare o da nord nord est o da sud o ovest quindi comunque non in una direzione proveniente dall'Ucraina questo questo mezzo certo può convertire ah sì il sud ovest ancora può essere papabile come rotta però comunque sia sì non ecco bisogna un giro un giro ancora più che altro sono i chilometri più che altro sono i chilometri anche sono 600 800 chilometri sotto la vista delle difese russe che l'avrebbero individuato avrebbero preparato le difese prima sarebbe stato abbattuto esattamente invece partendo dalla zona immediatamente limitrofa al o all'interno addirittura dell'area allargata della megalopoli che tra l'altro vediamo ha un diametro di 30 chilometri è un cerchio con un diametro di 30 chilometri con altri spazi verdi al suo interno quindi senza abitazioni l'ideale per un lancio esatto e quindi arrivano nella prossimità sono stati distrutti poi dall'edificio di punte non bisogna stupirsi tra le altre cose che ci fossero dei soldati sopra la cupola perché? perché ci sono sempre qualunque edificio di così elevato grado di sicurezza ha guardie disposte sui tetti tutti anche del Quirinale li trovate anche nella Casa Bianca perennemente 24 ore su 24 ci sono appostati tiratori scelti uomini dei servizi segreti e ci sono addirittura i sistemi di difesa aerea quindi gli Amram se non sbaglio sono posizionati sul sul tetto della Casa Bianca non c'è da stupirsi di tutto questo assolutamente e di conseguenza io credo che sia stato effettivamente un attentato da parte ucraina che ha cercato di colpire per dare alle fiamme il tetto della cupola del Cremlino quindi un'immagine simbolica non cercavano assolutamente di uccidere Putin perché non lo fai in un momento in cui sarà a dormire in una stanza protetta e via dicendo di conseguenza si cercava di mettere alle fiamme il tetto della struttura e creare un'immagine uno scotto politico questo non è avvenuto non è avvenuto è fallito e adesso ci sono i disconoscimenti perché chi fallisce chiaramente non viene riconosciuto come tale dicono no siamo stati noi non ci crede nessuno chiaramente però già questo tipo di tentativo denota una certa la pericolosità estrema di questo tipo di attrezzature nelle mani sbagliate che si può rivelare fatale anche per noi e teniamo presente che una di queste strutture una di queste attrezzature vicino a un qualunque dei nostri aeroporti può colpire un aereo in fase di decollo causando una strage immane e questo teniamolo presente è pur vero che i terroristi estremisti sono in genere controllati dai nostri governi però è anche vero che più di una volta poi qualche d'uno magari ogni tanto scappa dal controllo o quantomeno viene in genere però indirizzato verso la popolazione e non verso i vertici degli stati sì poi siamo in un momento in cui la proliferazione di queste armi è allucinante si parla anche di un sacco di armi che spariscono al mercato nero proprio durante le consegne a Zelensky figuriamoci che cosa può succedere se uno solo dei sistemi d'arma non riescono a tracciare non riescono a tracciare la l'uso e la lo stoccaggio delle armi tant'è che hanno dovuto inviare nuovamente i javeli nuovamente i manpads nonostante che ne avessero già ricevuti decine di migliaia io mi rifiuto di credere che abbiano già finito 40.000 javelin senza contare gli hello i milan e altri sistemi che hanno ricevuto tra l'altro sono dei sistemi che io ho visto utilizzare nei primi tre mesi e poi mai più non è che abbia visto dei filmati ucraini in cui sì ma non tanti si parla di una decina di filmati 15 filmati io non ne ho visti di più e questo è il problema l'utilizzo stesso non viene identificato perché se se gli ucraini avessero tutti questi successi con questi missili anticari beh avrebbero buon gioco a mostrarli io li ho visti usare soprattutto nella zona di Adveevka contro dei carri armati russi sì ma in che epoca due oltretutto è due mesi fa nella zona di ti dico subito io non ne ho visto uno in realtà di questi di questi missili e per carità li vedo i lanciatori che sono posati nelle trincee però insomma utilizzo confirmato durante le battaglie lungo la striscia di Pervomaisk il Javelin poi non arriva verticalmente sulle torrette esattamente è quello il problema io li ho visti arrivare sì verticalmente ma mentre il il carro armato stava retrocedendo no io ho visto i Javelin perché manovrava un po' avanzava un po' arretrava il Javelin gli è caduto davanti verticalmente ma davanti sulla posizione del guidatore sulla posizione di dove era prima di iniziare a spostarsi ah ok quindi non l'ha centrato no perché lui si è spostato e il missile l'ha perso quindi questo indica che non è così efficace come avevano venduto l'arma cioè il Javelin ha memorizzato la posizione e l'ha raggiunta ma siccome il missile il carro era in movimento non ha seguito non ha registrato la nuova posizione o quantomeno non è stato in grado di correggere la rotta sufficientemente da colpire il carro che era in movimento fatto sta che in questi ultimi mesi noi abbiamo problemi enormi sulla tracebilità di questi armamenti che siano anticarri o antiaerei o e lo dicono anche gli americani abbiamo citato più volte anche il presidente nigeriano che ha denunciato il rinvenimento di molte armi occidentali tra quelle fornite dall'occidente all'Ucraina in Nigeria nelle mani di Boko Haram che è affiliato all'ISIS capisci bene che non è una situazione molto bella questa tornando all'attacco al Kremlin questo attacco arriva pochi giorni prima della parata di Mosca che conseguenze ci sono state che cambiamenti ci sono stati sulla parata credo nessuno ma avevi detto che la marcia degli immortali ma questo già prima già prima per il rischio per il rischio quando ne avevamo parlato noi tra le altre cose anche di questa eventuale possibilità credo 15 giorni fa 20 giorni fa era uscita poi fuori la notizia che il Kremlin aveva diramato un ordine di sospensione di tutte le manifestazioni relative alla marcia degli immortali perché prevede una lunga e partecipata processione di civili che ricordano con una foto il sacrificio del loro parente durante la seconda guerra mondiale la grande guerra patriottica per i russi e i sovietici tra l'altro ci sarà qualcosa di simile anche in Italia il giorno 7 però perché di domenica se non sbaglio sì e quindi la anticipano al 7 a Roma se ben ricordo e questo per per evitare che siano esposti al rischio di attentati i civili e quindi la manifestazione alla piazza rossa che sarà iper diciamo controllata avverrà mentre nelle altre città avverranno eventualmente le parate militari ma non poi le sfilate dei civili esatto che seguono la parata militare del 9 maggio e questo è quello che abbiamo da dire quindi non ci sono rischi di particolare rappresaglia contro abbiamo letto che uccideranno Zelensky che useranno le bombe atomiche sull'affare saranno gli americani al massimo che gli fanno uno sgambetto giù dall'aereo può tornare tranquillo a casa via dopo che ha fatto il giro delle lemosine presso le sette chiese può tornare anche a casa a proposito ci ritroviamo a parlare di Zelensky che prima parte per la Finlandia poi a terra in Olanda e poi oggi dovrebbe parlare all'AIA eventualmente per descrivere la Russia come stato terrorista che cosa vorrà fare non lo so so che sta facendo il tour dell'internazionale neonazista perché è andato prima in Finlandia poi presso gli olandesi che sono occultori del suicidio controllato di questa nuova tendenza che ci vogliono imporre parlami anche di questo governo finlandese che è cambiato ha cambiato veste da filo nazista nazista direttamente mi dicevi eh sì perché il governo con le ultime elezioni è stata trombata la Sanna Marin e che è finita terza e quindi avevamo pensato addirittura nella puntata in cui parlavamo proprio di quello che magari facessero un diciamo un governo bipartisan con il centro e la Sanna Marin uscente invece hanno fatto direttamente essendo ultranazionalisti il governo con le forze di estrema destra ultranazionalista e il centro destra finlandese che poi sono tutte forze estremamente filo unione europea ultranazionalista con simpatie per l'estrema destra proprio quindi sono molto vicini in questo al governo ucraino ancora più addirittura della Sanna Marin che era un po' il prodotto creato ad hoc per traghettare la Finlandia nella Nato e creare quindi quel consenso per un'operazione che stravolgeva la storia di questi decenni di diciamo terzialità che hanno fatto la fortuna della Finlandia perché è sempre stata distensione e neutralità fondamentalmente sì la diciamo la porta attraverso la quale l'unione sovietica tutto il secondo dopoguerra ha commerciato con l'occidente di fatto e su questo la Finlandia ha fatto la sua fortuna ottenendo in cambio energia a bassissimo costo e ricordiamo le manovre geniali di Sanna Marin sono state soprattutto il chiudere il gasdotto che arrivava dalla Russia per comprare lo stesso gas che la Russia le vendeva attraverso il gasdotto ma lì che è fatto è a prezzo 5-6 volte superiore da navi e porti che arrivavano lì inquinando ad estrema manca dei veri statisti poi chiaramente a noi impongono i limiti di circolazione alle auto a Torino c'è gente che l'anno scorso ha comprato la macchina Euro 6D e quest'anno si trova che addirittura ha la limitazione del traffico anche loro laggiù invece le petroliere viaggiano le petroliere invece le fanno viaggiare un po' come a Genova dove mettono le limitazioni al traffico al centro delle auto e poi c'è la nave da crociera che parte sgasando come centomila macchine o le porta a container che vanno esatto che emettono nell'atmosfera tanta CO2 quanto centomila macchine magari in un anno e loro lo fanno ogni avvio di motore o cose simili noi lo facciamo per ingigantire il problema però sicuramente sicuramente è un problema questo nel senso che si parla tanto di inquinamento ma si continua a pensare di produrre ovunque convenga farlo nel mondo le cose per poi trasportarle via mare dove invece vengono vendute e questo imbarba perché poi l'inquinamento navale è quello che credo sia maggiore esatto e questo è stato fatto da coloro che adesso ci impongono ci impongono di cambiare le macchine trasformarle in cambiare le nostre abitudini perché siamo noi colpevoli che causiamo tutto questo non loro che ci hanno obbligato magari ad avere dei trasporti mal organizzati inefficienti e quindi a obbligarci a doverci spostare noi per andare a lavorare e non creare il lavoro dove c'era la popolazione e quindi a doverci spostare anche con le macchine no assolutamente la colpa è sempre nostra è sempre dei cittadini e noi dobbiamo pagare fa impressione che vadano a cercare i business peggiori non quelli migliori che ci vengano incontro per un miglioramento delle condizioni vanno a cercare quelli peggiori chiaramente perché evidentemente hanno degli interessi dietro anche perché loro che cosa fanno mica ti dicono di rendere ecologica la tua macchina magari mettendo un motore moderno trasformandola a gpl metano o addirittura in elettrico no devi cambiare la macchina e comprare una nuova elettrica 60.000 50.000 non so quanto costino adesso ma non è una passeggiata che sia nuova il fatto che vuol dire che c'è nuovo materiale scavato lavorato create le batterie e via dicendo e la tua va demolita oppure va venduta poi in un paese del terzo mondo dove continuerà il suo ciclo dell'inquinamento per altre cose oltretutto e qui perché noi ci troviamo in un momento in cui tutte queste novità vengono imposte a noi in Europa nel resto del mondo invece aumenta il volume delle auto a combustione interna a me fa impressione perché ne parliamo tutti nessuno vuole questo cambiamento nessuno si aspetta che questo cambiamento abbia dei benefici eppure se lo continuano a spingere guarda sono cose che volano sopra la nostra testa perché tutte le forze politiche che poi si presentano dicono tutti la stessa cosa e tu che scelta hai dove la democrazia in realtà non c'è perché tu non hai i mezzi per organizzare una forza politica nuova perché ti mancano i soldi ti manca la capacità materiale di organizzarla ma con tutti gli sgambetti che ci fanno che ti fanno sai benissimo che non si può esatto poi con tutto il bombardamento mediatico che viene fatto causa e liste civietta che vengono create ad hoc ti sminuiscono a tal punto che tu non avrai mai una rappresentanza in Parlamento perché non raggiungi neanche il quorum necessario rimarrà irrilevante fondamentalmente esattamente esattamente poi dunque adesso dobbiamo parlare di un'altra cosa il viaggio di Zelensky che in pratica che cosa fa Zelensky sta facendo il giro delle rassicurazioni in vista dell'offensiva offensiva che sta iniziando quella ucraina noi stiamo vedendo una serie di elementi che fanno parte del contorno preparativo dell'offensiva vera e propria se ci avete fatto caso in questi giorni tramite il canale Sacra Italia Notizie o anche il mio di il nome Stefano perché l'altro giorno qualcuno mi ha chiesto Odeg orizzonte degli eventi geopolitici magnifico facciamo un po' di pubblicità diamo sì su Telegram trovate avete trovato molte notizie di di un attacco a Sebastopoli ad esempio dove è stato colpito due sono stati danneggiati due serbatoi non quattro ma due serbatoi di carburante per nave quindi voglio dire non è che serva molto per poi altri anche a Krasnodar hanno colpito un altro porto in altre zone all'interno sono stati danneggiati alcuni treni sabotando le ferrovie un paio di convogli anche lì di carburante queste sono tutte operazioni che servono alla preparazione dell'attacco di terra ucraino e quindi vengono portate avanti dalle squadre di demolizione che quindi a riprova ci sono all'interno della Russia e quindi possono aver fatto queste cose come anche aver preparato i droni per l'attacco al Cremlino ecco queste squadre servono appunto a creare una serie di azioni di disturbo che distorgano l'attenzione anche perché c'è anche questa funzione così come l'attacco del Cremlino ha questa funzione distogliere l'attenzione delle forze militari russe dall'inizio delle operazioni di terra che però sono in corso i preparativi e questi attacchi all'infrastrutture di supporto logistico russe sono funzionali all'indebolire la capacità di resistenza delle forze russe durante l'offensiva ma siccome non arrivano mai a completare di colpire tutti gli obiettivi che volevano colpire perché ho visto l'attentato a Krasnodar o Voronez anche Voronez forse recentemente avevano mandato più droni per cercare di colpire ma alcuni sono stati veramente distrutti perché ho visto il video che vedevi proprio che i sistemi in un caso danneggiavano facendolo cadere altrove il drone che non raggiungeva gli obiettivi prefissati e pertanto la distruzione che doveva essere molto più estesa si riduceva poi ad essere limitata anche a Sebastopoli molti droni sono stati abbattuti ne dovevano arrivare una decina contro quel deposito che è proprio proiettato nel mare praticamente perché è su una penisola all'interno della penisola ai margini di Sebastopoli quindi arrivando dal mare pensavano probabilmente di ottenere molti più risultati invece non l'hanno fatto non l'hanno ottenuto ottengono risultati minimi irrisori ma comunque ci sono fanno quello che riescono a fare e poi ieri c'è stato un attacco oltretutto dove ne avevamo già avuti tre o quattro in precedenza ne hanno compiuto un ennesimo e ha avuto questa volta hanno usato più truppe hanno usato più mezzi blindati e corazzati e ne hanno persi altrettanti altrettanti cioè il problema è quello hanno perso diverse decine di soldati e almeno un carro armato e tre o quattro blindati non mi ricordo bene quanti però hanno parlato di diversi ecco è stato in due trasce è stato portato avanti questo attacco ma non ha sortito nessun effetto sì dai video che sto vedendo anch'io sia da Carson fino a Zaporizio che da Zaporizio fino a Cremendaya per dire comincia a esserci un movimento e cominciano a esserci degli scontri possiamo andare a vedere nel maggiore sì abbiamo ancora due notizie Stefano di cui vorrei parlare una è sicuramente quella delle due petroliere confiscate dall'Iran oh sì ecco allora nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno hanno dirottato la nave si chiamava Suez Rajan che è una petroliera greca che trasportava petrolio iraniano in direzione della Cina gli Stati Uniti hanno obbligato la nave a andare verso un porto statunitense a quanto capito o comunque l'hanno sequestrata di fatto perché perché loro stanno cercando di colpire i finanziamenti iraniani i collegamenti di petrolio per la Cina pensando che la Cina non prenda il petrolio dalla Russia non lo so cioè è una cosa un po' bizzarra quella che stanno facendo disturbano comunque loro devono disturbare dare fastidio rompere un po' ecco e quindi stanno cercando di sequestrare le navi che trasportano il petrolio iraniano o che sono iraniane allora gli iraniani che cosa hanno fatto siccome quelli sono dei pirati che dirottano le navi loro hanno fatto un'azione di risposte cioè sono saliti a bordo dell'Advantage Suite si chiama così con un'operazione diciamo di sbarco delle forze aviotrasportate che hanno preso il controllo della nave che è una nave che trasportava petrolio kuwaitiano per gli Stati Uniti e ne hanno preso il controllo l'hanno portata a Bandarabas e a Bandarabas adesso l'hanno fatto anche su un'altra petroliera che vedete nell'immagine non era carica però si vede perché la linea di galleggiamento è piuttosto distante esatto e l'hanno anche quella portata all'interno del loro territorio e questo perché c'è stato un incidente sospetto su un'altra petroliera e pertanto loro hanno detto benissimo quando ci succede un incidente sospetto su una delle nostre petroliere sapete che una delle vostre non centriate nulla ma sappiate che una delle vostre finisce in mano nostra che sia piena o che sia vuota non vi preoccupate gli hanno detto e infatti lo fanno regolarmente in barba tra l'altro al presidio della flotta americana che c'è in zona perché non può essere onnipresente e loro quando vedono che c'è una distanza buona per operare fulmineamente colpiscono e ottengono il risultato voluto tenete presente che il controllo americano nel golfo c'è è presente però è inefficace sembra che stia diminuendo sempre di più fondamentalmente l'efficacità dell'efficacia l'efficacia della flotta americana non è che sia diminuita è aumentata l'efficienza degli altri e questo è il problema che hanno anche la presenza di operare anche la presenza statunitense nell'area è sempre inferiore comincia a essere meno presente rispetto a prima hanno il comando della flotta lì nel Qatar se ben ricordo e la flotta non è stata mi sembra diminuita o credo che sia presente e che stia operando come in passato è diminuita la presenza in Medio Oriente in generale degli Stati Uniti perché hanno diminuito il contingente ha ridotto moltissimo il contingente presente in Kuwait purtroppo non dalla Siria dove invece ci sono sempre impegnati nell'occupazione illegittima del territorio del paese aggredito cioè la Siria e loro continuano a occupare questo Stato il territorio di questo Stato rubando oltretutto le risorse della popolazione siriana il fatto che gli Stati Uniti stanno cercando di danneggiare il legame che c'è tra l'Iran e la Cina così come tra l'Iran e la Russia attraverso queste azioni di disturbo però purtroppo per loro la capacità di operare delle ritorsioni da parte dell'Iran c'è è ben presente e ottengono grande efficacia perché adesso poi tutte le compagnie che fanno capo alle consegne verso gli Stati Uniti e devono passare da quella rotta avranno dei problemi problemi non da poco e pertanto faranno pressione sugli Stati Uniti affinché si moderi nell'effettuare attacchi gratuiti e illegittimi contro proprietà dell'Iran eppure noi vediamo anche delle portaerei che cominciano a muoversi non sappiamo in che direzione portaere americane non sappiamo in che direzione una potrebbe addirittura essere questa verso l'Iran per ora per ora stanno presidiando il mar cinese abbiamo la Ronald Reagan e se non sbaglio la Carl Vinson in zona e e poi dovrebbero arrivare anche dovrebbero arrivare altri mezzi per fine anno si parla forse della Cavour anche però è incerto di fatto doveva partire per Pasqua in realtà non è andata ma questo per il mare cinese giusto? sì per la zona qua non mi pare al momento non crede che la Ford possa essere aria diretta qui? la Ford sì la Ford la Ford dov'è adesso? credo che sia in viaggio ne avevamo parlato una o due puntate fa che era partita forse forse si sta dirigendo qua non lo sappiamo doveva forse però sostituire sostituire la la porta aere che è anche nel Mediterraneo da più mesi che adesso mi sfugge il nome che però va sostituita di fatto Larry Truman forse ha bisogno di un cambio perché non può restare sarà rimasta in acqua troppo a lungo sì non può non può continuare è troppo lo sforzo per tutto l'equipaggio alla fine cede diventa stanco quindi va sostituito e e quindi noi abbiamo visto questi atti legittimi da parte degli Stati Uniti che sequestrano le navi degli stati altrui e poi si lamentano se questi paesi fanno altrettanto contro di loro che sono i primi pirati sulla faccia della terra per dire va bene Stefano tornando al discorso della controffensiva noi abbiamo avuto nei giorni scorsi degli attacchi molto importanti da parte dei russi su prima di tutto una struttura Pavlovgrad e sono stati distrutti numerosi sistemi di difesa aerea e i radar degli stessi vuoi dirci qualcosa? sì facciamolo magari mentre vado con con le mappe diventerà difficile per me spostarmi da una parte all'altra quando siamo in quella modalità ok allora rimango qua e ti spiego che cosa è successo brevemente noi abbiamo visto distruggere nel giro di pochi giorni una serie notevole di mezzi antiaerei tra la zona di Zaporiz e la zona di Kherson sono stati distrutti quattro lanciatori cinque adesso con l'ultimo S-300 almeno due lanciatori OSA che è una difesa di punto un BUC che è difesa a medio raggio e un TOR che è difesa a corto raggio e due radar tra le altre cose il primo un radar normale forse era addirittura un radar di contro batteria il secondo invece è un sistema 3-6-D6 il sistema 3-6-D6 è un tipo di radar che ha che serve per un radar 3-D oltretutto che ricrea quindi un serve per elaborare dei dati e di selezionare quelli che possono essere falsi bersagli da quelli reali poi quindi per evitare il disturbo elettronico è resistente al disturbo elettronico può mi sembra di seguire quindi individuare un più di 100 target e una trentina di questi vengono seguiti automaticamente per inviare le istruzioni per il loro intercettamento alle difese aeree questo radar quindi è molto prezioso era molto prezioso perché aveva addirittura una capacità fino a 200 chilometri di gestire questi bersagli e quindi era molto prezioso per le difese aeree ucraine hanno cercato di piazzarlo nella regione di Donetsk più verso Dnepo-Petrovsk perché serve per avrebbe dovuto servire per le difese aeree e per il coordinamento di queste difese in vista dell'offensiva tra le altre cose è stato distrutto prima di essere montato perché loro lo stavano piazzando e poi l'avrebbero mimetizzato per il giorno dell'inizio delle operazioni chiaramente non adesso però i droni di osservazione russi o Orlan o di altro tipo più perfezionato lo hanno individuato e lì hanno dirottato i Lancet che lo hanno colpito due volte tra l'altro perché il primo è andato vuoto e ha colpito il trattore il trattore stradale il secondo è arrivato e ha distrutto tutta la parte elettronica e di comando del radar stessa sorte tocca anche ai lanciatori fondamentalmente ai lanciatori anche tocca questa sorte nel senso che gli S-300 sono stati ampiamente distrutti oltretutto c'è stato abbiamo parlato prima dell'attacco a Sebastopoli ma c'è stato un attacco due o tre giorni fa molto potente nella zona di Pavlovka che è l'immagine che state vedendo da qualche minuto questo attacco avvenuto di notte è stato filmato tra l'altro perché perché è stato filmato perché sono arrivati più missili non uno più missili che hanno attirato l'attenzione dei cittadini che hanno iniziato a filmare in lontananza quanto stava succedendo e a un certo punto c'è stata questa enorme detonazione perché aveva preso fuoco e esplodeva con una reazione a catena tutto il deposito contemporaneamente di fatto c'erano probabilmente stoccati decine di missili per la difesa aerea si è parlato di 16 lanciatori S-300 probabilmente c'erano anche altri sistemi di missili magari anche gli I-Mars si sono parlati anche di problemi alla ferrovia che c'erano dei carichi lì esatto sono arrivati molti pare 7-8 missili addirittura contro questo questo obiettivo ma l'esplosione è stata veramente la più potente che abbiamo visto finora e chiaramente questa zona qui si trova in una zona di smistamento per tutti i fronti ucraini esattamente è un importante nodo ferroviario alle spalle di due importanti fronti sia quello a sud di Zaporizh sia quello a est dove serve tutto il fronte del Donetsk di fatto da Marinka Ugledar fino a Kremennaia attraverso le ferrovie attraverso le strade che si diramano da lì probabilmente c'è stato un siccome in quel periodo stava piovendo in quei giorni stava piovendo particolarmente può esserci può essere avvenuto un diciamo un accumulo non voluto di più convogli a causa delle difficoltà nella distribuzione magari i mezzi che dovevano distribuire caricare portare questi hanno tardato e quindi c'è stato questo accumulo che è stato sanzionato da Iussi esatto esattamente e quindi c'è questa perdita pesante di attrezzatura da parte degli ucraini proprio in questi giorni attrezzatura che già si sa era risicata eppure stanno accelerando questo è solo l'antipasto di quelle che saranno le perdite che subiranno durante le fasi calde dell'offensiva ma abbiamo già detto che ci sono delle preparazioni appunto di operazioni dietro le linee ci sono delle operazioni perché questi mezzi vengono portati avanti verso il fronte e quindi vengono colpiti dai droni che hanno una gittata limitati l'Anset non vanno 800 chilometri nelle retrovie no centinaia vanno mi sembra 20-30 chilometri nel massimo 40 no credo che sia di più adesso guardiamo mentre vai mi sembra tanto l'Anset e quindi vengono portati vicino alla zona del fronte perché devono supportare le forze ucraine che avanza tenteranno di avanzare durante hai ragione tu 40 chilometri vabbè vengono portati avanti proprio per cercare di creare spostare in avanti quell'ombrello quella cupola di protezione che devono dare contro l'aviazione russa perché non hanno un'aviazione efficace loro Zelensky sta andando in giro per l'Europa dicendo vedrete che quando noi inizieremo le operazioni dell'offensiva e avremo i primi successi allora la Nato cioè gli Stati Uniti ci daranno anche caccia ed è possibilissimo ma gliene dessero anche 30-40 di caccia F-16 li buttano giù tutti e questo è il punto perché l'efficacia non è data dal numero di aerei che puoi avere ma da come li usi gli ucraini hanno perso finora decine decine da giugno arrivare a oggi decine decine di caccia perché li usano in maniera sporadica per cercare di fare delle singole azioni offensive senza avere più alle spalle la capacità di controllo nonostante che abbiano tutti i droni americani cioè i droni sì i droni sì di controllo aereo e gli AWACS però gli forniscono informazioni generiche non di sicuro di supporto ai voli la stessa cosa ipotizzo le difese aeree che di solito sono integrate nei sistemi russi sovietici non comunicano più dati fondamentali ad esempio questo radar 3-6-D6 avrebbe dovuto coordinare l'azione di più batterie di più batterie di molti lanciatori l'hanno perso magari ne avranno altri in zona però una mancanza di uno è già importantissima esattamente esattamente perché poi le stesse mezzi antiaerei che gli sta dando l'occidente non coprono questo tipo di funzioni perché anche loro non si integrano con quelle eventualmente che hanno ex sovietiche gli ucraini ex sovietiche esattamente pertanto useranno la batteria Patriot useranno la batteria Samp-T useranno la batteria Nazams useranno la batteria che cavolo ne so di quali altri sistemi gli han dato ma non saranno coordinate con quelle che vanno verso il fronte sono delle reti piccole singole indipendenti non più questa rete gigantesca che gestisce tutto finora sembra che questo tipo di batterie siano rimaste un po' a guardia degli obiettivi principali ucraini in sostituzione di quei sistemi appunto che stanno portando al fronte e quindi in teoria avrebbero dovuto costituire una sorta di difesa aerea efficace ne infatti si stanno trasformando in una distruzione sistematica però questo tipo di operazioni sono tutte preliminari allo scoppio dell'offensiva ieri sera c'è stato addirittura una serie di attacchi appunto come abbiamo detto nella zona di andiamo a vedere com'è che si chiama Orikov dove gli ucraini hanno cercato di sfondare sondando un po' il terreno le linee russe avevano già provato più volte in questo stesso settore nelle settimane e mesi scorsi e tutte sono finite malissimo e loro hanno rifatto di nuovo lo stesso tipo di attacco perché perché se vedete hai la mappa che ti avevo mandato quello dei fronti esatto con le quelle che vedete è la disposizione dei sistemi di trincea russe che sono stati monitorati dai satelliti e trasportate in mappa da un sito su google earth no russian fortification cercate le trovate come vedete a sud di orico c'è un tratto tra quelli meno protetti nelle difese russe perché è un punto dove non ci sono villaggi eccetera c'è molto spazio libero anche leggermente collinare con dei degli alti e bassi nel terreno che copre alcuni settori comunque c'è una formazione leggermente inferiore di una concentrazione minore di difese sembra quasi un po' che li invoglino a cercare di passare li fanno vedere due porte aperte tante porte chiuse ma solo due aperte un paio di zone dove c'è qualche cosa di passaggio in più un po' a invogliarli a infilarsi lì tra Berdiansk e Melitopol di fatto se vedete poi a scendere da Tocmoc verso Melitopol c'è tutta un'importante costruzione di difesa trincerata che serve come se volessero invogliarli a passare di lì per poi trovare una difesa laterale che in caso cerchino di convergere verso diciamo avanzando loro verso sud a destra in direzione della Crimea trovino questa formazione di difese che li spinge ancora più a sud dove c'è poi una strettoia tra Melitopol e il mare e da lì si sa che è difficile poi passare perché reparti di corazzati mobili possono affrontare magari efficacemente di fatto loro ipotizzano che gli ucraini vogliono scendere da Orykov verso sud costruire il corridoio tra Berdiansk e Melitopol fissare il fronte in direzione di Mariupol con l'esercito russo schierato lì e bloccato lì e poi convergere verso la Crimea in modo da causare nel contempo il ritiro dal fronte di Kherson delle forze che sono lì presenti per evitare di essere chiuse fuori dalla Crimea il piano ucraino a mio giudizio può essere questo scendere giù convergere verso la Crimea e sul lato di Kherson iniziare una serie di attacchi anfibi o meno che blocchino il più possibile le forze russe su quel fronte cercando di impedire che si possano spostare o manovrare per fornire l'aiuto adeguato a bloccare l'avanzata da Zaporizh queste sono le speranze ucraine chiaramente bisogna vedere esatto per me è il piano più probabile che possono portare cercare di portare a termine gli ucraini anche perché le possibilità alternative sono limitate in questo caso otterrebbero un importante obiettivo strategico cioè separare la Crimea dal resto della Russia perché contemporaneamente nelle azioni accessorie ci sarebbe senza dubbio la distruzione del ponte in modo da impedire l'arrivo dei rifornimenti tramite se non tramite nave traghetti eccetera che però sono più complessi e allo stesso tempo bloccare bloccare quindi l'arrivo dei rinforzi via terra devono quindi fissare più o meno all'altezza di Berdiansk il fronte con la Russia per poi convergere verso destra in direzione della Crimea scendendo chiaramente sinistra per voi che guardate chiaramente tra il dire e il fare c'è di mezzo e il è il miglior piano congeniato per una battaglia dopo pochi minuti va a ramengo succede tutta una serie di elementi che non vanno come dovrebbero andare e tutto si traduce in un casotto dal quale poi il comandante Avile riesce a ricavarne un ordine di qualche tipo e portare a termine la missione si nessun piano sopravvive il primo scontro dice esattamente 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 poi altri obiettivi altrove potrebbero esserci come ce li fai vedere adesso in mappa giusto? esatto adesso andiamo a vedere in mappa io metto la condivisione dov'è 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 qua condivido schermo avvia condivisione e metto la mappa allora se voi vedete c'è molta 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 attività di artiglierie e scontri un po' su tutti i fronti stanno aumentando sono raddoppiati gli scontri nella zona di Kherson appunto perché ripeto ci troviamo nelle fasi immediatamente antecedenti l'inizio dell'offensiva quindi noi abbiamo presenza dei droni sempre notevole una delle zone dove potrebbero attaccare gli ucraini è anche la zona intorno a Energodar e cioè nel frattempo che attaccano via terra tentino un attacco anfibio attraverso Dnepr per prendere il controllo della centrale nucleare ok e poi bloccare le truppe russe sul fronte e impegnarle cercare magari nel contempo di fare un disturbo insomma sì una testa di ponte oltre il fiume ma sempre nella zona tra Novo Kakovka e il mare perché è l'unica praticabile o attraversabile senza imbarcazioni di fatto perché altrove ci sono tre chilometri tra un arriva e l'altro esatto è molto largo e quindi diventa impossibile poi sostenere i rifornimenti c'è un nuovo attacco ancora che è partito probabilmente da poco vediamo se nelle ultime 12 ore no è ancora quello di ieri sera segnato però nelle ultime 12 ore come vedete sono segnati molti attacchi da parte e delle forze armate perché stamattina appunto verso le 7 le 8 del mattino sono partiti degli attacchi con missili contro le posizioni e raggruppamenti ucraini e attacchi ucraini che cercano di ottenere nuovi di colpire le difese russe dietro appunto quelle linee trincerate come vedete è proprio la zona dove avevamo detto che c'è stato quella serie di attacchi dove le trincee qui sono quelle meno raggruppate meno fortificate rispetto alle altri settori ad est e a ovest del punto che gli ucraini continuano a assaggiare andando verso Donetsk troviamo che stanno aumentando le attività nuovamente intorno a Ugledar e questo è indicativo dell'attività in aumento il sito russo ci comunica che gli attacchi ucraini sono stati respinti su questo settore e quindi vuol dire che hanno avuto delle perdite perché attaccano subiscono le perdite e perdono la capacità di proseguire e si ritirano come vedete troverete molto spesso l'indicazione di Uava battuto perché ce ne sono molti attivi sui vari fronti noto che sono tornati ancora attività molta attività di bombardamenti sulla città di Donetsk non capisco bene cosa indichi questo segnale perché non mi dà indicazione di che cosa voglia dire mi scuso alle volte va leggendo velocemente ho letto un bersaglio aereo distrutto poi magari sarà un drone sarà target antiaereo distrutto quindi vuol dire che probabilmente hanno distrutto qualche obiettivo lì volante potrebbe essere anche un I-Mars per quanto ne sappiamo noi esattamente qua vedete che la zona dove è stato distrutto il radar 3-6-D6 che appunto era vicino alla regione di Nepo-Petrovsk che è questa vedete qui il confine avrebbe dovuto fornire i target su tutto questo settore nelle retrovie nelle retrovie russe però essendo stato distrutto non fornirà più niente sono tornati a bombardare pesantemente anche la zona di Ugledar oltretutto dove c'è stato tra l'altro un attacco a sud di New York New York ricordiamole questo insediamento qua insediamento qua in questo settore è stato tentato un'offensiva da parte degli ucraini che non ha sortito alcun esito cioè non hanno guadagnato alcunché come vedete anche su Advefka le posizioni sono rimaste invariate stabili esattamente arrivando al fronte più attivo fino a poco tempo fa ahimè ah tra l'altro qui hanno usato un Ur 77 se ve lo ricordate è quel mezzo antimina lo sminatore che lancia un serpentone di C4 plastico e plastico che poi esplode ok anche questo è importante perché può agire su un campo minato e quindi può darsi che stiano cercando di liberare del terreno aprirsi una pista aprirsi una pista ricordiamoci sempre che il vecchio piano ucraino prevedeva la separazione di Donetsk da Lugansk e quindi l'incunearsi attraverso questo settore per proiettarsi verso il confine russo separando Donetsk da Lugansk a questo serviva per l'appunto la la cos'era il calderone di De Balzevo cioè il calderone l'avanzata quella che avevano fatto saliente di De Balzevo che serviva appunto per cercare di partire a separare poi Donetsk da Lugansk teniamoli d'occhio perché è un'altra possibile offensiva ecco è un'altra possibile offensiva un vecchio piano che avevano già lì pronto hanno aperto il cassetto e fa guardate ho elaborato questo brillantissimo piano proprio negli ultimi giorni cinque giorni sì e ce l'aveva già dall'anno scorso allora arrivando qua noi troviamo siamo ad Artemovsk giusto? Artemovsk bravo qua abbiamo innanzitutto devo sottolineare una cosa che la mappa russa mi sta assegnando delle posizioni che sono più arretrate di quelle che mi segnala il sito della figlia della Kagan di Kagan sì cioè io ogni tanto vado a vedere l'Institute Study of War che è di Kimberly Kagan tra i fondatori che è la figlia della Nuland esatto però finché non leggete poi quello che scrivono sotto dei vari resoconti che tengono d'occhio solo le posizioni principalmente le posizioni ucraine le posizioni sul campo me le dà addirittura prima l'ISV che non Military Maps Military Maps attende le conferme visive della posizione conquistata quindi con uno dei militari o corrispondenti di guerra che si recano sul posto e loro solo allora le segnano l'ISV si basa invece sui rilevamenti dei rapporti invece che comunicano anche gli stessi ucraini e i russi e quindi da questa posizione che è già presa addirittura fino a questo livello cioè più sotto vedete qui questa è la linea che danno i russi l'ISV dà addirittura un blocco di edifici oltre ormai ci troviamo nella parte finale della città e gli edifici cominciano ad abbassarsi ecco non so come sia stata risolta questa zona a sud dove ci sono ancora gli edifici alti lì sai tu darci l'aggiornamento in questa zona sarebbe la ridotta la ridotta ucraina permane il controllo da parte ucraina in questo settore a est è stata segnalata la resa alla 93esima brigata russa perché in questo settore sono intervenuti anche delle forze russe laddove non agisce direttamente la la Wagner di prigionieri di soldati ucraini mobilitati che si sono arresi in certo numero probabilmente un'unità intera probabilmente avendo fatto fuori i loro ufficiali però lo scopriremo solo vivendo che si sono arresi proprio stamattina è partita poi un'altra offensiva da parte della Wagner che scende a fianco a gira sul fianco questa questa formazione non rimane che quel nucleo quando io senti esatto quando io stiamo intorno al 6-7% di tutta la città guardate che cos'è Arteo Mosk no voi vedete qua la città che è tutta questa zona qui oggi è la città e questo spicchio di città è l'ultimo che rimane sotto controllo ucraino di fatto nei giorni scorsi gli ucraini hanno tentato più volte una controffensiva hanno perso anche addirittura un carro armato in questo settore che ha cercato di riprendere il controllo del viale Tchaikovsky che questo qui si parte da questa via si prolunga arriva quest'altra rotonda dai devia verso nord-est il viale Tchaikovsky sto imparando anche la mappatura della città siamo gli Uber di Bakhmut porca miseria e anche in questo settore hanno cercato di respingere indietro le forze russe ma non ce l'hanno fatta i russi hanno atteso che questi si suicidassero di fatto contro le loro posizioni e oggi con calma hanno ripreso la loro avanzata e questo è importante perché perché significa che contrariamente a quanto affermano gli ucraini che i russi mandino lo sbaraglio le forze all'assato questo assolutamente non accade è vero il contrario più che altro è vero il contrario invece che per cercare di mantenere il controllo disperatamente almeno fino al 9 della città sacrificano e continuano a sacrificare perché lo stanno facendo da mesi da quando è caduta Popasna rendiamoci conto che per difendere Popasna hanno fatto la stessa cosa è solidara anche è solidara anche Popasna per capirci era qua qua era Popasna è partita da qui l'offensiva su Artyomosc e nei mesi è proceduto è andata avanti e la tecnica russa è sempre stata la stessa artiglieria e pioggia di fuoco sulla testa degli ucraini che hanno tenuto in mesi il fronte facendolo arretrare lentamente solamente continuando a inviare soldati a coprire le posizioni di quelli morti in precedenza era l'unica strategia che hanno proseguito tra l'altro qui mi segnalano arrivi di Aymars su Alchersk centro città è vicino sì probabilmente sarà vicino al centro sportivo no guarda vicino al centro industriale hanno colpito un deposito un magazzino probabilmente succede a me tenteranno anche loro di centrare dei bersagli strategici sì mi chiedo che satelliti abbia in orbita l'Ucraina per vedere gli obiettivi sono chiaramente sempre i soliti quelli a stelle strisce e come vedete quindi c'è stata tutta una serie di tentativi da parte ucraina di mantenere il fronte tra l'altro l'altro giorno è stato ucciso tra l'altro anche uno dei comandanti della regione qui che si occupa appunto della difesa territoriale di questo settore ed è stato ucciso a bordo della sua auto blindata sì era una cosa abbastanza discussa perché i nostri media e Kiev smentiscono tutto ma non ci fanno vedere il generale in vita mentre Prigosin ci diceva mentre Prigosin ci diceva quell'uomo non è tornato a casa no non è tornato a casa infatti siccome non lo dicono a differenza delle miri di generali che erano stati uccisi nel primi mese di guerra se ti ricordi poi sono stati premiati successivamente quando risuscitati hanno ricevuto i riconoscimenti delle operazioni portate a termine ecco in questo caso in genere quando un ufficiale o un altro ufficiale ucraino viene dichiarato morto in genere rimane tale evidentemente non hanno ancora trovato la formula per riportare in vita i defunti e rimangono tali ecco e quindi il comandante di questa regione delle difese territoriali ucraine di questa regione è stato eliminato dalle forze russe non ho capito se con l'artiglieria quindi con un con un Krasnopol o un drone non si sa o un drone esattamente forse un Krasnopol perché dal tipo di danno era la macchina era devastata ma poi si vede che ormai riescono a colpire con quei proiettili obiettivi che sono chiaramente in movimento alcuni si muovono anche abbastanza rapidamente è abbastanza scioccante perché è il drone che lo designa col laser e quindi il proiettile corregge in volo sì allora poi andando verso nord ho visto che ci sono molte azioni da parte delle forze russe intorno a Bilogorovka che è questo villaggio che vedete qua c'è già nei giorni scorsi avevo letto che stavano di fatto accerchiandola infatti avevano preso queste posizioni adesso sembra che stiano portando un attacco più consistente su queste per ottenere volevo vedere un attimo se riesco aggiornando a vedere un po' di più di questa operazione qualche dato in più vediamo un attimo traducendo ok combattimenti in Bilogorovka esatto esattamente hanno colpito anche qui probabilmente dei magazzini dei depositi di munizioni vogliono prendere il controllo di questo villaggio perché apre la strada di nuovo verso Siversk Siversk è questo centro qua dal quale tra l'altro non sono distanti nemmeno da sud oltretutto Cremennaya è sempre una zona dove si combatte molto nella boscaglia si prosegue è inutile che vi stia a dire non ci sono aumenti o diminuzioni di attività né attività diverse dal solito noi ne abbiamo parlato forse nella puntata precedente o forse fuori onda che ci eravamo resi conto che ormai quella si era una foresta ma ormai sono tutti stuzzicadenti che spuntano nelle zone di conflitto c'è anche foresta foresta però in alcune zone di contatto diciamo che gli alberi sono un po' meracerare gli alberi intatti allora abbiamo visto invece come c'è sempre molta attività tra Svatovo e la parte nord fino al confine russo e continua a essere uno dei fronti più attivi in queste settimane questo tratto proprio da Svatovo fino al confine a nord fino al confine a nord con la Russia è evidentemente un punto dove entrambe le parti stanno investendo molto sia i russi che cercavano di arrivare nel settore qua di andiamo a vedere come si chiama Dvorikna questo villaggio qui che è Dvorikna questo sia gli ucraini che stanno cercando di guadagnare le posizioni da un bel po' di mesi che cercano di avanzare su questo settore hanno cercato in tutti i modi di sfondare così come avevano tentato di fare su Cremennaia su Cremennaia avevano cercato di sfondare proprio in questo settore qua con addirittura quattro battaglioni mandati in avanti in una volta sola tant'è che addirittura i telegiornali loro avevano diramati comunicati che Cremennaia era caduta mentre invece erano stati fermati battaglioni perché hanno detto mandiamo una massa di gente così di mezzi tale che non possono resistere e invece hanno resistito ma sono stati respinti ecco un'altra cosa vedete come ci sono segnalati nella zona nord questa è una zona dove sono stati molti attacchi contro i civili da parte di quei gruppi sedicenti della Russia libero qualcosa del genere che usano sempre queste scamotage per dire non sono ucraini che vanno a colpire lì ma sono dei russi dissidenti vabbè per chi ci crede sì appunto ecco ci sono forti segnali da parte del governo americano tra le altre cose di rischio che sia colpita Kiev sempre per il solito discorso che loro dicono hanno colpito hanno fatto finta di colpire il il cremino il cremino per lanciare un attacco poderoso contro i civili a Kiev no l'altro giorno tra le altre cose a Kherson hanno mostrato le immagini di un supermercato dove erano state colpite 21 persone il problema è che in realtà l'esplosione non era rivolta infatti inquadravano sempre da una parte questi corpi non facevano vedere fuori cosa c'era noi sappiamo benissimo perché l'abbiamo visto in mille video soprattutto nella zona di Crivoiroga e in altre zone che gli ucraini mettono i mezzi militari accanto alle case case e supermercati centri commerciali a Kiev li avevano messi addirittura sotto il parcheggio del centro commerciale causandone chiaramente la distruzione avevano quell'industria che riparava i mezzi militari nel centro di Kremenchuk che era stato distrutto per errore poi il centro commerciale perché era 20 metri 30 metri dalla fabbrica quindi era finito poi sotto il fuoco di un missile che aveva sbagliato di pochissimo il bersaglio e adesso è successa la stessa cosa nella zona di Kherson i droni hanno visto i mezzi militari hanno lanciato i colpi d'artiglieria contro di questi sono esplosi hanno travolto anche il centro commerciale che era di fianco che sorpresa che sorpresa chissà come mai può succedere una cosa simile è ovvio non sono attacchi contro i civili sono attacchi contro mezzi militari posti all'interno o nell'immediata prossimità delle zone abitate ecco da oggi fino a domani per 24 ore mi sembro 48 a Kherson ci sarà il coprifuoco totale nessuno potrà uscire di casa questo in passato l'hanno fatto gli ucraini perché cercavano di coprire movimenti di mezzi e truppe potrebbe essere lì l'indice però che domani possa iniziare magari un qualche tipo di operazione in questo settore è chiaro che siamo alla vigilia di qualche cosa di grande e non solo in questo settore è una questione ormai di un po' tutti i fronti caldi e insomma è anche chiaro che la situazione di Bakhmut rischia di ecclissarsi già adesso non è più molto rilevante come hanno un controllo abbastanza limitato io parlo in vista della controffensiva è chiaro che se la controffensiva la fanno a Bakhmut torna a essere rilevante ma così visto com'è stanno aprendo a parecchie operazioni guarda non solo una io noto che c'è un enorme uso da parte di droni di osservazione da parte degli ucraini su tutto questo settore la zona di Kherson verso la più vicina alla Crimea quindi riuscire a creare una testa di ponte e sfondare in qualche modo su questo settore può essere per loro molto importante è l'operazione il settore forse più difficile dove può esserci l'operazione ma è anche il primo settore dove il terreno è sufficientemente compatto più favorevole insomma esatto perché più a sud più verso il mare è quello che ha goduto del clima migliore e quindi il terreno può essere sufficientemente compatto per supportare i mezzi occidentali attenzione sono stati avvistati i primi i 50 Bradley al fronte in che zona ecco non ho capito se appunto nella zona di Kherson o nella zona a sud della città di Zaporizia però sono già arrivati al fronte sono stati ridipinti con livree occidentali cioè sì occidentali ucraine a pixel e pertanto sono presenti vicino al fronte mancano ancora gli avvistamenti dei carri i leopard i challenger hard challenger e via dicendo e gli Abrams non dimentichiamo che potrebbero arrivare anche gli Abrams sono in Polonia non stanno lì per figura voglio dire e pertanto il fronte di Kherson da fronte più difficile proprio per la presenza del fiume potrebbe essere per gli ucraini il punto di sorpresa cioè riuscire in un'operazione anfibia lì potrebbe rappresentare un punto a favore proprio per perché magari a giudicare dai dati che hanno per le osservazioni satellitari potrebbe essere il fronte però meno difeso da parte russa dimmi la verità Stefano lo stai consigliando agli ucraini perché così si buttino quelle armate in acqua no è una valutazione che va fatta è una valutazione che va fatta però in effetti l'intenzione è anche quella no io dico per me potrebbero tentarci io l'attraversamento del lago lo farei a nuoto magari sì con le piene il fucile gli occhiali ci hanno già provato diverse volte poi sicuramente i mezzi in queste anse non saranno visibili prima di partire quindi nessuno se lo aspetterebbe un attacco da lì perché non verrebbe sicuramente visto vedi magari partono da qui nell'entroterra di Zaporige dove erano partiti con i barconi l'altra volta per poi tentare di sbarcare qua quei famosi sbarchi di cui avevamo parlato noi io e te e che invece altri dicevano assolutamente non ci sono mai stati poi quelli hanno visti poi una rivista di nessun conto come il Times invece ne ha parlato apertamente che ci sono stati e sono falliti va bene noi credo che abbiamo parlato un po' di tutto gli attacchi sono questi le preparazioni vedete che sono stati colpiti attacco Uava anche in questa zona no vedete ci sono attacchi preparatori con gli iMars hai visto i video di Capitan iMars vuoi tornare no Stefano vuoi tornare visibile ho visto il video su un canale ucraino telegram sempre di questo personaggio che si chiama Capitan iMars mi dovrai mandare il link aspetta dov'è termina conferma interruzione condivisione ok visualizza ci siamo ci siamo no io non ti vedo è questo il fatto come mai non ti vedo cosa ho schiacciato consenti non ti stai perdendo niente ah ecco ok no 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 ti avevo perso avevo paura poi non vedo magari se se ti blocchi o altro beh fatto sta che noi c'è questo personaggio Capitan iMars che ha fatto vedere noi colpiamo con iMars soldato russo no che di qua di là che poi parla russo anche lui voglio dire e nel dialetto del galiziano e poi fa vedere anche che li stoccano in decine di depositi sovietici che sono stati costruiti in epoca per resistere attacchi nucleari o altro e quindi voi non avete colpito not one of this will be destroyed altre cose nessuno di questi è stato distrutto ha detto varie cose così in realtà poi sappiamo che ne sono stati distrutti diversi e che a tutti i mezzi che venivano distrutti e che loro semplicemente non mostravano perché non avevano interesse a mostrarli veniva fatta richiesta a Washington veniva poi fatta richiesta di sostituzione di questi grazie e poi anche ringraziamenti per avere rimandato sostituito i pezzi che erano andati persi ecco quando dici una cosa così chiaramente intendi ho perso dei pezzi perché sono stati distrutti grazie che venivano mandati di nuovi in sostituzione cioè più di questo non so che altro possono dire ecco noi ci siamo più volte più volte spinti a dire che dopo questa potrebbe non essercene più un'altra di offensiva perché effettivamente dagli aiuti che stanno arrivando cominciamo a notare che non ci siano più grandi spedizioni blindati chiaramente non verranno persi tutti il problema grosso sono i carri armati allora se teniamo presente che in questa infornata ne abbiano dati 200 250 cosa ci può essere per la prossima se non li butteranno giù in questa i 250 Abrams M1 quelli in calibro 105 quelli che tengono in Polonia per dirci esattamente che sono in Polonia potrebbero essere affiancati successivamente dai Leopard 1 perché altri 200 barra 250 Leopard 1 li hanno recuperati un centinaio li avevano loro 88 quanti cavolo erano un tot mi sembra la Spagna un centinaio glieli ha dati l'Italia di conseguenza 200 250 li recuperano quindi una quarta non è da escludere non è da escludere perché unita a 250 Abrams che ballano lì in zona tutti con munizionamento da 105 che magari stanno fabbricando in questi mesi perché non era più prodotto questo tipo di munizionamento che magari fabbricano in questo periodo magari lo trovano per la prossima ondata per l'offensiva quando si esauriranno questi per fine anno insomma i modi per prolungare un conflitto ci sono sempre ecco da un lato noi non riusciamo a staccarlo questo conflitto fondamentalmente arriveremo alla fine del 2023 senza probabilmente averlo finito l'hanno già detto che il conflitto durerà ancora per tutto il 2023 tranquillamente questi sono i piani americani che stanno cercando di adattare la loro produzione anche di munizionamento per l'artiglieria alle esigenze del conflitto esigenze che sono state ampiamente coperte dalla Russia e che sta aumentando ulteriormente la sua quota di produzione e spezziamo una lancia in favore del generale Cavoli e chiamiamo questo stacchetto Cavoli Amari Cavoli Amari Cavoli Amari ha detto nient'altro che questo e cioè che la la macchina bellica russa non è stata toccata neanche minimamente è intatta per due motivi primo hanno tenuto in scorta l'aviazione che ha subito minimi danni e di fatto ha poi integrato durante l'anno con le nuove forniture di velivoli le perdite le poche perdite avute smettendo quindi i dati totalmente falsi che venivano diramati di più di cento aerei persi all'inizio del conflitto pietra tombale pietra tombale sopra quelle cazzate che alcuni beoti continuavano a mettere in giro che poi da noi queste cose girano che è un piacere lasciamo stare poi altra cosa ha detto la marina di fatto è integra per forza non è uscita neanche dal porto un mezzo perso la Moskva che era importante per carità ma era anche vetusta chi asserviva su quella nave ha detto che era una cosa drammatica era ancora legata agli anni 80 di fatto tutti i sistemi vecchi la nave stessa era abbastanza colabriodo aveva la prima generazione degli S-300 a bordo per capirci comunque sia è un peccato comunque a me dispiace a me è dispiaciuto tanto sia per lei che per anche i marinai che non si sono salvati quelli che non si sono salvati perché molti si sono salvati che salutavano ma erano chiaramente un 200 su 400 450 non mi ricordo quant'era non mi ricordo quanti erano in piazza quelli sopravvissuti ci sono stati feriti in ospedali erano presenti anche quello quindi non erano sicuramente tutti altra cosa poi che ha detto di fatto anche le forze di terra di fatto costituiscono e continueranno a costituire in futuro una minaccia formidabile per gli interessi americani questo vuol dire che e in questo spezza una lancia in favore di Sacra Italia e del sottoscritto che di fatto ha detto che le perdite russe non sono alte i mezzi che hanno perso sono stati ampiamente sostituiti dalle nuove produzioni e dalle conversioni di mezzi vecchi delle riserve in mezzi più moderni e di fatto oggi la Russia ha una macchina da guerra di terra probabilmente più potente di quella che aveva all'inizio del conflitto anche perché dietro di sé c'è una industria bellica che sta producendo a livello molto spinto nuovi mezzi che escono ho visto l'infornata recente con più di cento mezzi dell'ultima produzione di BMP3 non è l'Ural Vagonzavod è l'altra come si chiama in sfugge eppure stanno sfornando 300 carri al mese 200 carri al mese eh sì una cifra simile quella era la produzione degli ultimi due mesi e tutti aggiornati alle ultime versioni non stiamo parlando di mezzi che vengono rimessi in pista stiamo parlando di mezzi che vengono aggiornati all'ultima versione e vengono spediti esattamente esattamente la Kurgan Masjavod ecco Kurgan Masjavod e questa ha prodotto un nuovo lotto di BMP3 cioè meno male che grazie alle sanzioni che hanno piegaranno entro poche settimane la Russia dicevano un anno fa no che un anno fa più di un anno fa dicevano a marzo esatto a marzo dell'anno scorso dicevano nel giro di poche settimane la Russia sarà piegata perché questo è il pacchetto di sanzioni più pesante che sia mai stato fatto nella storia dell'umanità la von der Leyen in ginocchio li voleva in ginocchio li voleva entro poche settimane risultato inflazione dell'eurozona oltre il 7% inflazione in Russia sotto il 3% io ho letto un titolo sui giornali che diceva che i russi rubano le lavatrici poi guardo sul mio canale e vedo gli ucraini che si fanno la lavatrice con le lavatrici appena rubate dentro la casa di qualcun altro e vabbè se lo dite voi esigenze di trincea sai il comfort ci vuole erano tra l'altro nel baul nel baul di una monoconoma l'hai visto anche tu le due lavatrici ma certo non le hanno portate da Kiev quelle c'era anche l'asciugatrice c'era anche la lavatrice da un lato e l'asciugatrice da un lato come fai senza morbi dente Stefano Lenore scusa abbiamo fatto la sponsor ah accidenti cavolo dobbiamo farci pagare adesso ci dovete dei soldi esatto esatto va bene dai comunque sia è così mi sembra che abbiamo detto tutto Stefano abbiamo detto sono sicuro che ci siamo dimenticati qualcosa guarda io ti posso dire solo una cosa che a fronte delle proteste dell'atto ostile denunciato dagli Stati Uniti contro l'Arabia Saudita che ha calato la produzione di petrolio l'OPEC plus ha annunciato una seconda ulteriore abbassamento della produzione ma tieni presente che non ha effetto sul prezzo del greggio che è sceso sotto i 73 dollari al barile sarà mica per queste cose dei furti di petrolio che fanno no è perché sta diminuendo il fabbisogno c'è un rallentamento dell'economia globale soprattutto dell'Occidente ci spostiamo sempre meno non andiamo più a lavoro si era già risentito quest'inverno perché noi abbiamo detto abbiamo fatto a meno del petrolio russo sì perché era il 20% del nostro fabbisogno il fabbisogno generale dell'Europa è calato del 20% quest'anno perché è calata la produzione industriale molte aziende hanno sospeso la produzione per eccesso di costo dell'energia insomma tutto questo ha il suo peso l'inverno è stato particolarmente mite su tutta l'Europa di conseguenza c'è stato un calo del fabbisogno ma l'allarme è per l'anno prossimo perché se questo fabbisogno per caso dovesse aumentare di un per cento siamo tutti con l'acqua alla gore ci sarebbero grossi problemi allora dicono di stare attenti l'OPEC si porta avanti adeguando i livelli di produzione per sostenere il prezzo del petrolio cioè a bassi livelli di produzione l'India ha trentuplicato le acquisizioni di petrolio dalla Russia ma non perché la sua economia abbia bisogno di tutto questo petrolio ricordiamo che il petrolio che l'India sta comprando dalla sola Russia è più del doppio di tutto il petrolio che compra dall'Arabia Saudita e da un altro produttore molto grande cioè dall'OPEC di fatto da due produttori grossi che non mi ricordo più quali sono forse Arabia e Iran Iran e Venezuela no Iran e Arabia mi sembra insieme è più del doppio della somma del loro due delle quantità che acquista da questi due paesi insieme ed è una quantità enorme ma di sicuro loro non se ne fanno nulla se noi andiamo a vedere se non vendercelo esatto la quantità di petrolio greggio da un lato e raffinato dall'altro che vende all'Europa è aumentato enormemente di conseguenza noi ci rifiutiamo di comprare il petrolio russo dalla Russia ma non ci facciamo nessun problema ma comprarlo a prezzo di mercato dall'India che lo prende invece a sconto ma non inferiore ai 60 dollari stabiliti dai limiti europei lo paga un po' di più e poi intanto sa che lo vende a noi a quotazione di mercato quello raffinato addirittura ha il guadagno ulteriore della raffinazione un valore aggiunto che noi ben volentieri sembra che paghiamo senza proteste e quindi contribuiamo ad abbassare il costo della produzione energetica in India che sta diventando un nostro fortissimo concorrente e noi contribuiamo ad aumentare il costo dell'energia per le nostre aziende che perdono quote di mercato e una dipendenza tra le altre cose da risorse che dovrebbero tutte venire via nave siamo sempre dipendenti dal petrolio russo di fatto fantastico ecco che tra l'altro appunto se lo analizzi è sempre russo sto dannato petrolio lo compriamo dagli emirati lo compriamo da altre ma è sempre petrolio russo quattro volte più caro quindi non lo so non lo so se è quattro volte più caro però lo compriamo comunque a quota di mercato e per dire comunque sia che noi lo compriamo più caro ma chi lo compra per noi lo compra al prezzo giusto lo compra al prezzo che il quale la russia lo vende di favore chiaramente perché è una partita di giro oltretutto non lo pagano più in dollari e quindi anche lì si apre certo contribuiscono a far cadere il peso del dollaro nell'economia mondiale che si sta accelerando la dedollarizzazione a livelli esponenziali addirittura la corea del sud l'alleato storico degli stati uniti e l'indonesia si scambiano prodotti in valute locali nazionali nazionali sì l'indonesia è un produttore di petrolio la corea del sud compra il petrolio magari che poi è russo anche quello anche quello e non lo paga più in dollari ma lo paga in valuta coreana in sostanza stanno scappando tutti dal controllo dell'egemone tranne gli europei sì ma ovviamente servi fino in fondo servi fino in fondo esattamente con governi sempre più servi benissimo Sascha siamo arrivati alla fine mettiamo un punto a questa puntata volevo ricordare per i volenterosi e coraggiosi che sono arrivati fino alla fine sabato io sarò a Perugia oh bello poi si trovate in un incontro pubblico insieme a Marco Pondrelli di Marx il direttore di Marx 21 troverete poi sulle nostre pagine se mi fai un commento con i riferimenti sul canale ti mando la locandina da pubblicare quindi a Perugia sabato pomeriggio alle 17.30 non mancate per tutti coloro che abitano lì in zona soprattutto uno di Gubbio che mi ha detto ah sei venuto a Perugia non me l'hai detto adesso lo sai e non sei giustificato benissimo io volevo giusto fare un appunto se nelle prossime nei prossimi giorni nelle prossime ore nelle prossime settimane vedrete questa controffensiva ucraina che sfonda qualche linea difensiva non correte a dire ah ecco ve l'avevamo detto non voglio neanche sentirvi vi avverto e nelle ragioni delle cose l'assorbire la spinta offensiva del nemico arretrando e continuandolo a martellare grazie Stefano deve succedere quello un saluto a tutti un abbraccio e alla prossima puntata grazie per la pazienza e alla prossima arrivederci grazie a tutti